Buona domenica a tutti e bentornati nelle news della settimana di Pepper H Collectibles o Collectibles come dice il buon Luke74 di Luke74 Channel che saluto, ciao Luca! Allora ragazzi, news della settimana che è il format più amato da tutti coloro che effettuano un preordine di 1 a 1 a 6 e quando ancora deve uscire Hot Toys arriva e ne fa una versione migliorata buttandoglielo nel... dicevamo quindi, altra settimana di noia totale no vabbè, a parte gli scherzi è soltanto un annuncio da parte di Hot Toys poi c'è qualche altra chicchetta che come sempre andiamo a vedere sul colosso.nerd.com alla fine del video ragazzi, quindi vi invito a rimanere fino alla fine un solo annuncio per questa settimana e nessuna release per Hot Toys per quanto riguarda l'annuncio sto parlando, come vedete a schermo, di Beetlejuice Beetlejuice dal film Beetlejuice Beetlejuice ovvero il sequel del film originale del 1988 con il nostro amatissimo Michael Keaton innanzitutto bellissima doll cioè, a primo impatto è davvero un'opera d'arte, almeno così sembra per tantissimi aspetti che andremo a vedere fra poco quello che mi ha fatto un po' pensare ragazzi, poi è una considerazione mia questa è che è stata praticamente, è quasi in uscita se non mi sbaglio la versione di Beetlejuice di Sideshow una doll fatta molto bene che andremo a vedere un attimino anche fra poco e ancora deve uscire i Hot Toys quasi a fare da concorrente a Sideshow anche se non è in realtà proprio così ragazzi e fa, annuncia questa doll ispirata al secondo film che è bellissima ragazzi introduce un sacco di, cioè un sacco alcune nuove, alcune novità in ambito 1 a 6 e soprattutto a questo prezzo perché come potete vedere oltre alla solita tecnologia del purse degli occhi che si possono ruotare in tutte le direzioni liberamente che ormai sono diventati uno standard almeno per quanto riguarda Toys qui vediamo in una edizione standard e non un'edizione limitata i capelli finalmente in cotone come se fosse un'artisan edition ma non solo abbiamo anche un secondo head sculpt sempre con l'innesto dei capelli che sarebbe questo qui che vedete in questo momento quindi con gli occhi e la lingua che vengono fuori da gli occhi che vengono fuori dalle orbite e poi abbiamo anche una base diorama tutto questo condito da un prezzo super favorevole perché sul colosso dei nerd sta praticamente a 349 euro quindi raga che dire diciamo che la cosa di Sideshow è vera a metà nel senso Sideshow ovviamente ha fatto uscire questa doll ispirata al primo film del 1988 che è anche molto molto bella quindi chi ha già fatto il preordine di quella di Sideshow non deve pentirsene secondo me o cambiare ma comunque non può farsi sfuggire anche questo che sembra essere un vero e proprio capolavoro di Hot Toys perché comunque sono di due film differenti certo che magari aspettare un pochino di più so che il film è uscito praticamente in questi giorni ma aspettare un po' di più così praticamente fa una sorta di concorrenza al suo stesso distributore uno dei distributori di punta il distributore ufficiale quasi praticamente di Hot Toys che è proprio Sideshow comunque fatto questo preambolo ragazzi fatemi sapere voi cosa pensate di questa vicenda che è un po' quella che è successa con la Batman Armory di cui parlavamo ormai un po' di tempo fa solo che lì è rimasta in casa sua sempre Batman Armory fatta da Hot Toys che ancora tra l'altro deve essere rilasciata e prima ancora del rilascio fa la Batman Armory migliorata dedicata ad un altro film sono d'accordo ma comunque così si mettono un po' in difficoltà sia i negozianti sia gli acquirenti che magari vedono questa versione tolgono il preorder di quella precedente prendono quella nuova si creano un po' di casino comunque come vedete questo Beetlejuice secondo me è meraviglioso a partire dall'Headsculpt capelli appunto in cotone il vestiario è quello che è lo conosciamo tutti la base di Orama ragazzi è uno spettacolo tra l'altro qui vediamo anche il pollice alzato con la fiamma che dovrebbe essere power operated non so se USB magari adesso andiamo a leggere qualche dettaglio la base di Orama ragazzi è fighissima cioè non c'è niente da dire qui abbiamo anche l'afterlife il giornale questo è il secondo Headsculpt tra l'altro appunto ripeto ad un prezzo del genere con due Headsculpt ragazzi è una cosa che non si vede da un po' di tempo o forse non si è mai vista a questo prezzo non lo so sinceramente e qui vediamo come al solito il sommario appunto le due Headsculpt qualche accessorio tra cui il microfono il cuore il giornale after life se non mi sbaglio c'era anche il libro si mani intercambiabili e la base di Orama oltre alla base ovviamente normale andiamo a leggere qualche dettaglio Movie Masterpiece 767 di Beetlejuice altezza 30 cm 30 punti di snodo data di uscita terzo quarto quarto del 2025 quindi anche qui non ha molto senso magari cioè ha senso prendere tutte e due le versioni quella di Sideshow per il primo Beetlejuice e questa per il secondo film perché comunque una è in in imminente uscita dovrebbe uscire entro l'anno se non mi sbaglio quella di Sideshow questa comunque bisognerà aspettare almeno un anno per noi forse anche qualcosina di più per noi italiani poi andiamo a leggere due cose al volo ragazzi appunto abbiamo le due due Edsculpt entrambi con gli occhi che sono rotabili una ovviamente con gli occhi anche fuori dalle orbite e la lingua poi abbiamo i capelli in cotone ok qui parla del tono della pelle eccetera eccetera abbiamo varie paia di mani e per quanto riguarda quello con la fiamma parla solo di Power Using Thumb Up Right Hand quindi Power Using dovrebbe essere appunto che viene alimentata ma non parla di USB quindi non so forse ci sarà la batteria come per le spalle laser dei Jedi non lo so vabbè poi abbiamo il costume con varie cose con la camicia bianca la cravatta calzini rossi le scarpe nere i pantaloni e la giacca a strisce bianche e nere che conosciamo tutti poi abbiamo tra gli accessori il newspaper il giornale quotidiano di Afterlife il libro delle recenti scompasse il cuore l'orologio braccialetti microfono e nel file mi sfugge che cosa possa essere e poi ovviamente la base diorama bene ragazzi direi appunto che più o meno detto tutto su questo Beetlejuice è una grande novità di questa settimana nonché l'unica per adesso io sto registrando come sempre di sabato ragazzi sabato mattina quindi spero per me che non ci saranno altre grosse novità nel giro di un giorno o due ma questo è tutto vi faccio vedere al volo la prima doll di quella di Sideshow dedicata al primo film che è anche questa che secondo me è molto molto ben fatta anche qui parliamo di capelli cotonati insomma il vestito è quello che è un po' c'è un po' meno effetto weathering eccetera ma è una bellissima doll questa di Beetlejuice che stava tra l'altro su Sideshow a 260 euro ragazzi quindi io comunque vi consiglio di non chi ha il preordine ragazzi tenetelo perché veramente vi portate a casa un bellissimo prezzo andiamo adesso un attimo sul Colosso dei Nerd dove andiamo a dare un'occhiata molto veloce al Michael Jordan di Enter Bay che è stato annunciato praticamente la scorsa settimana purtroppo non ho fatto in tempo a registrare il video perché è stato annunciato credo di domenica o lunedì e stiamo parlando di un altro capolavoro anche questo è secondo me bellissimo porta la maglia 45 perché i fan sicuramente lo sapranno è la maglia è anche la maglia numero 12 è la maglia che indossò Michael MJ quando lasciò il basket e si diede al baseball per poi tornare al basket con la maglia 45 che indossava nel baseball la maglia numero 12 invece è una maglia che utilizzò una volta perché non si trovava il numero 23 e quindi indossò la 12 senza nemmeno il suo nome riportato sulla divisa bellissima la basetta secondo me davvero un capolavoro da non farsi scappare con le sue ovviamente Jordan ed è bellissimo anche io che non sono un grandissimo fan del basket un pezzo del genere in collezione ragazzi farà sempre la sua bellissima figura quindi altro pezzo consigliatissimo siamo appunto su ilcolosso di net.com dove troviamo il preordine di Iron Man della Ono Studio che abbiamo visto la scorsa settimana a 2.49 l'Enter Bay di Michael Jordan a 2.99 vari effetti per le Sage Figures e anche nuove Sage Figures tra l'altro tratte da One Piece una con Sabo e Bakugo da Mario Academia anche questo un altro pezzo da non farsi scappare secondo me date un'occhiata anche alla replica in scala 1 a 3 dei cappucci di Batman di McFarlane che sono bellissimi e qua c'è un capolavoro di statua raga della Master Sword Junior dei Motul Master Sword Junior di Skeletor in scala 1 a 10 andatela a vedere perché è fighissima raga poi appunto da segnalare ragazzi oltre ai vari cappucci appunto che vi dicevo di Batman dei vari Batman appunto il preordine di Beetlejuice da Beetlejuice Beetlejuice a 349 euro di cui abbiamo parlato fino adesso fate un salto ragazzi come sempre vi invito su ilcolosso di net.com perché c'è davvero tanta tantissima roba e sapete che lo consiglio sempre perché è il miglior secondo me servizio in Italia buong raga anche questa domenica se ne va per me è sabato ma per voi spero che stiate passando una bella domenica che siate al mare negli ultimi giorni magari di mare di questa estate che volge al termine volevo dirvi che ci saranno un po' di novità non tantissime sul canale probabilmente tornerò in live può darsi pure che tornerò domani non lo so sono dei giorni molto complessi molto complicati giorni di cambiamenti giorni di intenso lavoro non questo questo non è un lavoro ma il mio lavoro e insomma vediamo se riuscirò a tornare in live il prima possibile può essere anche domani se riuscirò a creare la live a trovare i tempi giusti eccetera quindi nel caso ci vediamo domani in live altrimenti ragazzi sempre qui sul canale martedì con la collezione delle marvel battles che sono riuscite ad ultimare giovedì con un unboxing e poi domenica prossima con le news della settimana buona domenica buon inizio di settimana ciao ragazzi ciao a tutti Grazie per la visione!